oh eccoci qua belli siete ragazzi meno male che è finito il calciomercato però le comiche le comiche perché ragazzi stavo spolliciando un pochettino qualche notizia e ho visto un po di pagelle dei vari dei vari notiziari sport di sport e quanta non faccio nomi ecco non voglio fare nomi mi viene da ridere perciò volevo fare quattro risate insieme a voi ragazzi perciò facciamolo insieme innanzitutto buonasera bentornati qua sul canale dal vostro amico night nella casa del pane balun ragazzi belli siete ve l'ho già detto e quello bisogna sempre dirlo mi raccomando iscrivetevi al canale ragazzi fatelo importantissimo iscrivetevi attirate la campanella così rimanete aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti ragazzi poi c'è ora che che illuminazione adesso adesso è un'altra categoria so anche ragazzi volevo fare due risate insieme a voi perciò per questo un video un po un po strano e poi dopo le no le pagelle vere e proprie nostre le facciamo domani con calma studiamo bene tutti tutti i magheggi che sono stati fatti però io devo leggervi le pagelle di questi di questi qua che ho fatto di questi giorni mi sembra dire si può fare una sceneggiatura una sceneggiatura per un film comico queste pagelle qua allora ragazzi ve l'ho già detto iscrivetevi al canale attivate la campanella mi raccomando un bel like fatelo subito che importantissimo facciamoci due risate condividendo questo video con altre persone allora ecco quale pagelle sono spettacola è un qualcosa di spettacolare allora partiamo subito la fiorentina gli viene dato un voto 6 il voto nasce dalla media tra il mercato in uscita 7 perciò evidentemente dal dalla vendita di di vlaovic e quello in entrata 5 hanno fatto una media perché in entrata hanno preso soltanto icone piante che cabral insomma alla fiorentina avrebbe dovuto prendere imbappé messi e neymar icone piante che cabral non va mai da 5 il mercato in uscita è da 7 però il mercato in entrata della juventus è da 9 ma scusate se tanto mi date a me scusate la juve prende 9 per aver preso vlaovic e la fiorentina prende 7 trasformato in 6 perché poi fanno la media perché vende vlaovic un giocatore che aveva dichiarato in maniera spudorata che non avrebbe mai rinnovato il proprio contratto detto anche dai dirigenti della fiorentina che hanno fatto un arachiri pochi mesi fa dicendolo proprio in maniera pubblica a un anno e mezzo dalla scadenza perciò un giocatore che rischiavi veramente di perderlo a zero questi prendono 75 milioni e hanno fatto un mercato in uscita da 6 e la juve che lo ha comprato 75 milioni poi c'è da mettere l'ingaggio elevare elevare i vari soldi i vari procuratori si parla di 100 milioni di 9 e la media della juve con il mercato da 2 che ha fatto 4 mesi fa qual'è? 9, 2, 11, 5 e mezzo che cazzo di medie sono? ma ti ha meno da ridere scusi secondo me la juve gli si può dare un voto alto per l'amore di Dio perché comunque ha investito dei soldi e ha preso un giocatore effettivamente molto forte poi che dovrà dimostrare perché poi comunque sostanzialmente i voti del mercato li puoi dare dopo che li hai visti all'opera dargli prima che non so figurine cioè le figurine panini tu prendi dai il calciatore io ti do Maradona tu mi dai Platini e Laudrup cioè così si usava quando ero piccolino io ma adesso che voti dai cioè falli giocare almeno vediamo cosa riescono a fare però in prospettiva ci può stare dare un voto alto alla Juventus ma io le avrei dato più alto alla Fiorentina perché la Fiorentina avendo un giocatore che oramai era perso dichiaratamente detta sia dalla dalla dirigenza della Fiorentina che dal giocatore perciò questi prendono il massimo di quello che possono prendere e poi lo sostituiscono con Icone Piontek e Cabral comunque ragazzi Piontek e Cabral sono due attaccanti adesso non saranno sicuramente Ronaldo e Van Basten però comunque ragazzi nella Fiorentina la Fiorentina non è lì perché è Vlaovic che l'ha portata lì Vlaovic ha fatto il suo però la Fiorentina ha dietro un gioco ha un allenatore che fa giocare bene la squadra vediamo se nella Juve faranno giocare bene la squadra per poter mettere Vlaovic nelle condizioni di fare il gol che faceva nella Fiorentina perché ad oggi il gioco della Juve non è che metteva poi in condizione amorata e akin di fare gol adesso vedremo se lo faranno con Vlaovic però detto questo ci può stare il voto alto alla Juve non ci sta quello basso alla Fiorentina poi vedo un 7 all'Inter perché ha preso leggo non è che non sono parole mie ragazzi Gosens se fosse pronto per giocare immediatamente varrebbe almeno un voto in più prenderlo ora è una scommessa con ottime possibilità di essere vinta ma pur sempre è una scommessa con l'arrivo di Caicedo da rimettere in forma dopo un lungo periodo di scarso impiego e loro prendono 7 cioè insomma loro hanno preso un giocatore che è fermo da 5 mesi e che ancora adesso è infortunato forte esterno però ancora adesso è infortunato un calciatore un attaccante che faceva la panchina alla Lazio e l'ha fatta pure al Genoa che sicuramente quest'anno poverini retrocederà e hanno fatto il mercato da 7 e la Fiorentina l'ha fatto da 6 che sono lì ma io non riesco a capire che tipo di di voti no è una sceneggiatura per fare un film comico dai dite la verità Milan 5 va bene ci sta me lo aspettavo perché comunque Milan e Napoli non hanno fatto mercato Milan 5 Napoli 5 e mezzo va bene ci sta il gioco delle parti non riesco a capire cioè devo essere sincero a Milan non gli avrei dato neanche 5 gli avrei dato senza voto non l'ha fatto il mercato sostanzialmente che voto gli vuoi dare a una squadra che non c'è 5 perché non ha fatto nulla si è ha mandato via dei giocatori che non usavo vedi che non usava vedi conti un paio di giovani e ha preso un giocatore al posto del ragazzo che aveva senza spendere soldi perciò non ha fatto mercato è entrato uno è uscito l'altro se non vendi nessuno non arriva nessuno se non vendi hanno fatto il giochino cioè ragazzi 5 senza voto secondo me ma anche il Napoli perché 5 e mezzo cioè non capisco cioè comunque Manolas è voluto andare via a tutti i corsi e scappato con le valigie a novembre ha preso questo tuo enzebe vedremo come sarà boh non mi sembra mi sembra un po' esagerato ho visto dei voti un po' particolari avete detto questo poi ragazzi io sinceramente domani anche l'Atalanta poveracci l'Atalanta ne hanno dato 6 ma scusa ma come è andato 6 l'Atalanta ha preso Bogat che è un signor giocatore e si è liberato di un giocatore che non rientrava più nei piani nel progetto di Gasperini era infortunato da 5 mesi è ancora infortunato e l'ha venduto a 30 milioni ma come sei ma chi è che ha fatto i voti qua ma sono del mestiere questi qua ma poi a parte che devo essere sincero secondo me non si possono dare dei voti a un mercato cioè tu non sai come va a finire il mercato il mercato a giugno potrai dare i voti del mercato invernale al massimo puoi dire la tua la tua idea se secondo te hanno fatto bene perché magari andare un po' più sul tecnico più che dare i voti e magari sarà quello che faremo domani innanzitutto ragazzi vi voglio ricordare una cosa guardate che giovedì 17 e 30 18 e 30 sono in live tutti i giovedì io ve lo ricordo nei video così prendetevi appunto se avete voglia di chiacchierare un po' di chiacchiera da bar dai così facciamo anche qualcosa in live è più bello interagiamo insieme ovviamente voi mi dovete mandare il messaggio perché non si può parlare però almeno è una cosa secondo me carina un po' più abbiamo un po' più di contatto detto questo ragazzi io vi auguro una buonanotte ci vediamo domani poi ne parleremo bene del calciomercato ne parliamo bene tra di noi e vi auguro una buonanotte vi chiedo un bel like se vi è piaciuto il video se vi ha fatto sorridere anche a voi a me mi ha fatto morire dalle risate appena l'ho visto e ragazzi vi ricordo sempre la mia live di giovedì 17 e 30 18 e 30 vi aspetto tutti quanti grazie di quale a tutti e come dico sempre io ciao